Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, sono Longing, e tutti siamo di nuovo, e tutti sono tutti, super Mario, oh, ti sei! No, scusate, abbiamo fatto un piatto? Oh, ti sei! Sì, ecco, questo è il secondo video per la giornata. Allora, per te che c'è una ricetta, per te che c'è nessuno, per te. E' quella la, oh, ti sei! Beh, bella. Ho scoperto. Ma questa è la O2 6, che è la... Allora, ti siete? Mi hai portato qui. Sì, questo è il tuo. Ma va bene. Io non ho niente dovuto aggiungere, l'ho fatto già un file, da beh. Utilissimo! Sce l'ho fatto l'oltre, che lo vedo, perché dovevo andare a utilizzare. L'oltre, tante lune, qua, qui, non lo sai, qua. Oggi sono, ti diciamo, ho fatto un file tutto nuovo. Il gioco Il gioco Il gioco Il gioco La persona Gioca La cosa Il gioco Lo faccio Lo faccio Lo faccio La cosa Il gioco Il gioco Inizio La totalità Il gioco La granita Il gioco Hell Si Il gioco E' un gioco Adesso, cosa vuoi fare? Questa è la mia colletta Il nostro corpo è lo stesso E io farò tutto questo Tutto il resto è il ciao Ora io faccio Ecco, davvero E' l'attenzione Allora, lasciamo tutti sempre E ora Dopo di un altro La stagione della stagione Questa è la stagione Questa è la stagione Adesso, queste pietre Come si fa a sbloccare queste pietre? Averla Aver fatto questo porto Ok, questo porto In questo esempio Si può sblocare questo Ma che cosa farò io? O Dopo il gioco O Dopo il gioco Il cappello Vedo poi E' Andrò A cercare Questi possi secreti Che si possono ottenere Solo Aver finito il esempio Aver finito il gioco Oppure In questo Qui c'è una spiegazione Come si fa Proprio il cappello Facendo così Un po' Proprio il cappello Proprio il cappello E' Proprio il cappello Questa è In questo Il cappello Il cappello Il cappello Il cappello Il cappello di settimana come ho fatto questo è un po' di caldo e calciate e basta allora ciò che ci fa e poi ciò che ci fa e poi questo è un po' di caldo e poi può saltare allora scusa per il fatto che te lo sapevo il fatto è che ti spero di toglierla quando non lo stresi allora non lo cuore e' una ragazza s'intorre al passato mi ha cash on a wrong bene wata ita mi trovo il cordone va bene mi lascio il giuseppe il giuseppe e se sarà dopo tutto questo mi specco io poi questo è Super Mario 2T io non avrei giocato a Super Mario questo qui mi specco io dopo 1 non ha in faccia e 2 non ha in faccia credo di aver saltato anche lui tra che questo mi ha detto allora questi cosi questi livelli si trovano tra virgolette tra tutti i regni del gioco come hai che spiega? c'è coi vedi si mette? sono già arrivati ah si sono arrivati vabbiamo a tentare guardate che parola parola ma il tetore ci sia quel cappi ecco chi dovete trovare cosa serve questo? come copertina come copertina ma non si fa molto piacere come copertina le monete Le monete, questo ciocco sono importanti. E' un po' febillile? Rincopierate la musica. Ecco il mio posto. Che si deve fare? Le domani hanno scoperto. Io ho fatto bene, io ho fatto male. Questo nel mio posto. E' la mia vita. E' una**lla stessa. Io sono mai stessa. L'ho fatto male. E' un'altra cosa. e non è stilato le facce, vabbè, cercerò questo giorno, allora, in questo episodio ho scegliato, in questo episodio o in questo episodio? Ho dimenticato, ho detto io, ma è stato bella, adesso ho portato la serie, è un pochetto, se mi piace, no, no. Allora, questo episodio è un episodio, vuole fare i tuoi episodi, questi sono i cu, cu, par, avanti, ci va la Multilunar, allora, allora, io volevo fare un pochetto, super Mario Galaxy, qui abbiamo una Multilunar, veramente mi piace, mi sono chiuso il casino, dobbiamo riferimentare la Super Mario Galaxy da spesso, la, 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 la devo continuarlo, nel canale, ah, lo ammetto, lo ammetto, lo ammetto, io, calma, ci parevo, io, 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 sei pieno di farlo, però, voglio mostrarvi una cosa, voglio mostrarvi una cosa, dunque, sapete, sapete che se non un... cioè si spara anche qui le tavole, 2bre per te, 2bre, oh 1bre per me la tavola, Maintenant, èbabito, qui, tu, è sc buat difícil, 1,2,3 Sindriazdad, 5-1ileri e 1-2,3 Ma... ...ma dio... ...va c'è il mezzo che funziona... ...qu'è la cosa succesa? ...qu'è la controlla il tifarcito? ...l'abbè... ...perrindetele sapere! ha capturato una rana ciò che ti parola perché? perché ha capturato cap e il tappello ma sapete la cosa? vi faccio vedere è turato avete capito non ci vuole un po' allora allora ma avete preso il gioco Pouser vuole sposare il gioco ma Pouser ha capito pure la sorrellita di cappi come corona non l'avete visto l'inizio vieni qua ZL per uscire da Canada questa è il capitano ecco questa cosa è il testo è il capitano di cappi se viene riportato ma dà se non mi metto vieni alta la mano sono vieni alta la mano vieni alta la mano sono vieni alta la mano ma ma dà non so se avete visto la vita guidati in cappi ok check point Comunque lo sapete, guarda la festa! Questa sera uscirà ogni fine settimana. No, la conversazione è che tu ti salta a metodo tempo oppure mentre. Sento a settimana. Una cosa è certa, sicuramente farò solo un episodio, oggi il caso è fatto solo per casa. Comunque posso dire se volete un vero più rapido, come ho detto. Come ho detto, io non ho detto. Allora, queste sono i nostri nemici. Ma c'è la festa di gioco. Ma la metodo sempre, ma in mezzo è tante cose. Ma non ho tante cose, ma non ho tante cose. 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 Adesso, ora non ho tante cose. Tre volte? Ora, qui le molette. Cosa sono il fatto? Ok, cosa sarà mai questa cosa? Un palo della luffa? Allora. Vabbè aspetta. Abbiamo 10, 미안. a casa. Isparro. Mario o ti scegli? 자를 seware o vuoi usare? anche te werde questa mania. queste cose e qui invece usate le monete normale allora io i prossimi me le prendo buon paio c'è sempre l'acqua prima l'uva e la luna il posto non avete notato che ti ho fatto con te un'altra per favore facciamo saposte alla prima allora per i primi episodio può essere tutto e così l'ha fatto un po' di fuori ho fatto 14 minuti circa ecco, senti i figure si vuole molti fetture cappi a te piaci, puro! ecco, inclina la cosa per lanciarti allora, il prossimo episodio potremmo mettere la nuova arci non solo quella nuova costo di pancia i vecchi telestellati su per prendere qui abbiamo le lune prenderò le lune necessarie non è che ho sto cipi di soltina c'è sempre una luna per prendere la luna papà, così, sei tifi luneta per prendere qualche talvio una cosa, eccetera eccetera te lo fai la multilune la multilune credo che sia qua sotto la serie mi piace ok ragazzi per questo episodio per il primo episodio è stato veramente carino allora e noi ci vediamo invece di concludere voglio chiarire qualcosa dopo la serie vabbè, continuo pure alla fine della serie dopo il post finale cosa c'è? ci saranno gli extra si completerò tutto al 100% ci può avere in questo episodio confizzerò il post finale a me dai punti si tu questo altro vediamo questo che posso in questo episodio ti fa piano, basti subito ok allora questo è il video di passare tutto spesso ti faccio un bel like per il prossimo video e non male avrebbe dovuto offrire che ti va la prossima ma ho trovato un po' di tempo ma anche a freddo perfetto ho fatto un bel like iscrivetevi e qua sotto il link nella descrizione vi lascio la pagina instagram quello del canale un video l'altra pagina era più o meno il mio personale però vi lascio pure quella nella descrizione se volete andare a vedere per questo video per essere tutto ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi